Marco Oltrona Visconti, Display Magazine, oggi siamo qui con Luca Stella, Project Manager di Euro Display Design in Progress, che ha progettato una soluzione per le farmacie. Il mondo farmacia nel category management sta vivendo un momento di grande fermento, il progetto di Euro Display è una semplificazione di un materiale espositivo digitale per il banco e per lo scaffale. Ci puoi spiegare che caratteristiche ha il vostro progetto realizzato per Pfizer? In realtà è già riassunto quello che poi il progetto è in situazione. L'idea è quella di prendere un materiale digitale, quindi la tecnologia oggi ci aiuta ad avere degli schermi con una visibilità incredibile perché si vedono anche a 180 gradi. E quindi quello che abbiamo fatto è stato re-ingegnerizzare uno strumento esistente semplificandolo nella parte del cambio di comunicazione. Quindi oggi un'azienda come Pfizer, che è lungimirante in questo, ci ha chiesto di realizzare uno strumento che potesse essere adattato per i loro diversi mercati. In questo caso ne abbiamo solo due, a questi si aggiungono anche gli altri cinque con Betotal, Multicentro. Quindi l'idea è quella semplicemente di creare uno strumento con una basetta sostituibile con un cambio di comunicazione digitale al ventolo. Logicamente quello che abbiamo fatto noi in aggiunta è prendere l'interno, produrlo e progettarlo direttamente all'interno di Autodisplay. Quindi siamo fiori anche di dire che questo è un made in Italy al 100%. Grazie a tutti.